Musica Domenica 11 dicembre, terza domenica di avvento, è il 346esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 20 al termine. Il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 16.28, la luna si leva alle 14.58 e tramonta alle 3.58. Crolla il campanile della chiesa di Sant'Angelo a Venezia, consolidato più volte a causa delle pericolose condizioni di statica, cade solo un giorno dopo che era stato raddrizzato dall'architetto Aristotile da Bologna, che per sottrarsi alle responsabilità fugge in Russia. Dove lavorerà alle fabbriche del Cremlino. Le previsioni per domani. Cielo sereno, poco nuvoloso, dopo il tramonto nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Venezia e locali sul resto della pianura. Precipitazioni assenti. Temperature. In pianura senza variazioni di rilevo di notte e un aumento anche sensibile di giorno. Sui monti in calo, eccetto stazionalità dei valori diurni nelle valli. C'è più un あro anche. Per diManolo. Ci per non. Buộ nauco. Pu Yukgo. Años. Buon anno. Grazie a tutti.